La Regione Emilia Romagna ha deciso nel dicembre scorso con la delibera di giunta di prevedere un percorso per la costruzione della strategia regionale di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici. Il cambiamento climatico è di solito pensato come un meccanismo globale che può essere affrontato solo a livello mondiale, da qui le iniziative prima di Chioto, poi di Parigi, della COP21, ma è globale anche perché interessa tutti i settori e richiama la responsabilità di tutti i settori, di tutti i cittadini, di tutti i comportamenti. Ecco, l'ambizione che la strategia regionale vuole mettere in campo è esattamente quella di coinvolgere l'iniziativa e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che possono essere interessati o colpiti dai cambiamenti climatici.